bella ragazzi qui è justice e siamo arrivati su fifa 14 con un pack opening di 110 mila crediti allora andiamo a spacchettare apriremo tre pacchetti da 15 mila iniziamo ragazzi non si schifo bello schifo ragazzi mamma mia ragazzi davvero la sparasse a bella e almeno questa ma consolato un pochetto da rega teniamo pure le forme fisiche se non sono sempre vivente che scrive ragazzi davvero penoso aspetta io posso guardiamolo vabbè che magari scartiamo tutto bella merda primo pacchetto andato a puttane secondo pack no skip cazzo quanti giocatori tra ore oddio tra ore che cazzo è l'accento aspettare buono 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 no che sfigura vabbè dante da un euro di canoniere cambio ruolo atti ciò ci teniamo vabbè non si può mai dire ma canoniere vale poco credo che cazzo l'accento vape molto bene ma una pippa spiegoli qua no scartiamo tutto ultimo pack da 10 mila con qualcuno ragazzi a chiudete gli occhi chiudete gli occhi noi abbiamo chiudito gli occhi Abbiamo giusto gli occhi ragazzi, non stiamo guardando Giudeteli anche voi Chi cazzo Armero, ma chi cazzo è Vanjink è la seconda volta che lo trovi Vanjink è la seconda volta Mamma mia Ti prego un doppione No, un doppione non Vedi il camionolo Vedi il camionolo Il camionolo a T centrale Vengo questa Che merda Mamma mia Aspetta, stai per indietro Ma non c'è niente, vanno tutti schifo Sti giocatori di merda Volevi aprire un altro? Apriamo da 7500 Ragazzi, i con gli avvicinati fanno un me Stanno proprio di Schifo Oh, una serie, buono, buono 5.000 crediti, chissi Ci siamo arrivati al pacchetto Stanzito, vabbè, stanzito si può prendere magari qualcuno se lo tira Una serie buona, buona la serie Canalizzatore vale 3.000, eh Buono, buono, sì, sì Questa è la mia maniera su Che schifo di pacchetto Che schifo di pacchetto? Un pack, no Attenzione Beh dai, non è male questo camionolo di pacchetto Messi, ragazzi dobbiamo trovarlo Dobbiamo trovarlo, Messi Abbiati Abbiati Che? Porca puttana, porca Dacci un tozzo Dacci un tozzo Dacci un tozzo Dai, magari vi devo se vuoi rivela a qualcosa Dacci un tozzo Dacci un tozzo Altri quattro pacchetti No Non saltiamo ragazzi Ruben cast Lei cambierò Vieni 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 Ragazzi Ragazzi Oh, un contratto raro ragazzi Davvero del talento Pinky money Rafinha Chi o ci attima Rafinha ragazzi Oh No vabbè Se non si tiene questo ragazzi Se non si tiene aziali Forever Se non si tiene quello Altri pacchetti Pacchetti Dai Oh Due giocatori rari Alessandrini può valere qualcosa Cardoso è un valencazio Oh, buono I big money Big money No, no, no Ragazzi Da 7500 Apriamone qualcun'altro Vabbè dai Facciamo stava zia Ragazzi Non ti risalta Dai Ora Boateng 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 Questo qua Schifo Doppione Dai Vedi cambi ruolo Vabbè teniamo Oh, cecchino e muro Beh Traore Traore è bugato Si riprende Traore è bugato Vabbè dai Vabbè dai Un attimo Dio buono Allora Non serviamo Questo Perché non si è rimasto Lo due da 7500 O uno da 15000 Mi è rimasto Obligas Non lo scartavo Due da 7500 Due da 7500 Ok Due tac da 7500 Poi finiamo questo video Non si schifpa E Iguain È un classico È buggeato È buggeato Iguain Tieni Però Oh Big money Ragazzi Tieni Non manda Il mio giocatore Finora è Dante Ma c'è l'ultimo pack L'ultimo pack Ultimo pack Attenzione Vidal V Arturo 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 Benaffa Benaffa Base Benaffa 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 Teniamo Benaffa 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 Scartando l'US Mi sa che l'ultimo Ce la fai Perché spesso Avevo 11000 The last pack Of the day Ragazzi Trigate per noi Toz Toz Porco Cazzo Va bene Shit Pax Pro Il mio giocatore È stato Nastri Poi abbiamo trovato Buona Hang up Dante E basta Scartatuccio This is it Ne avrò un altro Vai resta assolutamente Da ragazzi l'ultimo Ragazzi la pazia del giorno Salta 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 Ora Parco La divisa del Real Madrid Qualcosa Ma vengo io a sto punto La divisa del Real Madrid Chi è? Clement Sei Clemente Non sei stato Clemente con noi oggi Chi è? Basta Vai a fare In beep Abbiamo trovato Dante Nasri Higuain Benaffa Traorè Alessandrini E poi Al stemma della Lazio Diviore il nostro tiro Ragazzi Diviore il nostro tiro Ragazzi è tutto Per oggi abbiamo finito con questo video Commentate Iscrivetevi Mettete mi piace al video Commentate Diteci Cosa volete per i prossimi video Da Justiz Per oggi è tutto Ciao belli